Amici, Andrea Smülle ricoverato in ospedale, febbre, linfonodi e senza forze A molti giorni di distanza dalla messa in onda della puntata finale di Amici 17, sono ancora i protagonisti del celebre talent show di Canale 5 a far parlare di sé. . Tra cui uno dei ballerini professionisti più amati del corpo di ballo del programma. Nel corso delle ultime ore, è spopolata online la notizia del ricovero spedaliero che, da alcuni giorni, costringe il ballerino del format di Maria De Filippi, Andrea Smüller, a stare a riposo e a digiuno forzati. Andrea si apre via social media, non posso non mangiare. . Una delle notizie più battute dai principali siti di informazione nostrani, vede il vincitore nella sezione ballo della sedicesima edizione di Amici di Maria De Filippi. . Andreas Müller, ricoverato in ospedale, a seguito di malori improvvisi, accusati per diversi giorni. . Dopo tanti mesi in cui corri e non ti fermi mai, il nostro corpo ha bisogno di fare una pausa, se non la facciamo noi, è lui stesso a prendersela. . Torno subito, più forte di prima. . Grazie a tutti per i messaggi e l'interesse. . Queste ultime sono le parole rilasciate per iscritto dall'ex pupillo della maestra di danza di Amici Veronica Peparini, in uno degli ultimi post pubblicati sul suo profilo ufficiale Instagram. . Il ballerino italo-tedesco ha rivelato online di aver accusato a lungo e in modo ripetuto diversi malesseri, nello specifico. . Andreas ha avuto febbre alte e forti dolori alla pancia, e soprattutto non riusciva a mangiare. . Motivi per i quali Müller ha deciso di recarsi al pronto soccorso, per effettuare degli accertamenti clinici sul suo stato di salute generale. . Un post pubblicato diverse ore fa dalla pagina Facebook di Verissimo contiene una foto di Müller ed alcune importanti dichiarazioni rilasciate dal ballerino ai suoi follower. . Ho fatto un'ecografia, e una zona della pancia è risultata infiammata e con ghiandole e linfonodi. . Ho avuto la pressione bassa e mi sento praticamente senza forze. . Speravo di ritornare a casa, e invece dovrò restare qui per altre analisi e altri controlli, per capire. Per chi mi conosce, sa che può andarmi bene tutto ma non posso non mangiare. Sto vivendo un incubo e ho fame. . Non mangio da 2-3 giorni, queste ultime sono le parole che sintetizzano il messaggio lanciato dal ballerino vincitore di Amici 16 ai suoi fedeli sostenitori. . Dichiarazioni, quelle dell'attuale ballerino professionista del talent show di Maria De Filippi, che hanno profondamente colpito i fedeli telespettatori del programma e in particolar modo i fans di Müller. . 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 Grazie a tutti.